Salve a tutti ragazzi, sono sempre Lorenzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui signori con il primo episodio della seconda stagione delle vostre carriere allenatore Perché sì ragazzi, quest'anno ho deciso di iniziarla circa un mese dopo l'uscita effettiva di FIFA 20 Mentre l'anno scorso su FIFA 19 l'avevo iniziata un pochettino più tardi E per questo non sono riuscito a mettere molti di voi Per questo motivo ragazzi, quest'anno è partita prima la serie e così dovrei riuscire a inserirvi quasi tutti Di cosa parliamo però ragazzi? Parliamo di una serie nella quale andrò a revisionare, a vedere le carriere allenatore che mi mandate in privato E cercherò di darvi dei consigli di formazione, qualche acquisto o come gestire un attimo la squadra Quindi ragazzi, vi chiedo, se ancora non sapete come fare, di andare nel video che trovate in descrizione Perché lì vi spiego come inviarmi i vostri screenshot Parlo di quelli che sono su PlayStation Il video che troverete in descrizione è il video che ho fatto anno scorso Per spiegarvi appunto come inviarmi i vostri screenshot su FIFA 19 Vale lo stesso ovviamente perché la console è sempre la stessa Quindi date rivedere il video senza bisogno che ve lo stia a rispiegare In questo momento è a perdere tempo Apro subito una parentesi Per chi mi segue e gioca su Xbox o PC Seguitemi su Instagram e mandatemi i vostri screenshot su Instagram ragazzi Perché partirà un'altra serie separata da questa Però appunto prenderò in considerazione chi gioca su Xbox e su PC Andrò a chiamarla in un altro modo Ma questa è una piccola sorpresa Quindi mi raccomando ragazzi, cerco di dare importanza a tutti voi Attenzione però non fate le foto con il telefono Fate gli screenshot con la console e inviatemeli in direct Detto questo ragazzi dovete assolutamente supportare la serie Perché quest'anno durerà tutto l'anno Ovviamente all'interno del video ragazzi cercherò di mettere le carriere allenatore più interessanti Con dei giocatori interessanti Con magari un paio di spunti per discuterne insieme Quindi vi chiedo una cortesia Se avete carriere allenatore con Bappé, De Jong, Gabriel Jesus, Rashford, Martial Con un po' sempre gli stessi Vi prego di non inviarmele così non mi intasate troppo La home, i messaggi, i direct eccetera eccetera Perché comunque quelle lì sono un po' viste riviste Se invece avete qualche giocatore interessante da mostrarmi Mandatemeli senza nessun problema Partiamo con il nostro primo ufficiale Ufficiale utente che viene inserito all'interno di questa serie È da Skyler che sta facendo una carriera allenatore con il Manchester City E voi mi direte Ma Menzo hai appena detto di non inviarti carriera allenatore viste riviste Questa ragazzi però ha un paio di spunti Ovviamente non andiamo neanche a vedere la titolare Perché ragazzi ci sono un po' i soliti In panchina manca qualcosa Perché abbiamo un paio di centrocampisti molto interessanti Come Alegna lo conosciamo già Busquets lo conosciamo Non è di certo un giovanotto E lì un pochettino ti copri Ti copri leggermente in difesa con Otamendi e Danilo Ti copri in porta con Cragno Ti copri un pochettino in attacco con Silva e Marez Il resto ragazzi sono tutti giovani talenti A parte Gundogan e Vasquez Quindi secondo me già un pochettino di riserve ti mancano Almeno un sostituto per ruolo mi verrebbe da dire Il Manchester City è interessante ragazzi Perché si potrebbe creare una carriera allenatore alternativa Dedicata quasi esclusivamente ai giovani talenti Perché guardate qui Solo in questa schermata ragazzi Abbiamo Garcia che cresce Gonzales che cresce Garre che cresce Mezza che cresce Wilson cresce poco Effettivamente anche la TBDR e i Grimshaw Ma se bombardate gli allenamenti possono essere giocatori inter... Ragazzi? Foden? Dov'è Foden? Non c'è Phil Foden Non c'è Phil Foden Cioè il dio del calcio Tu mi invino a carriera allenatore Col Manchester City Non c'è Foden Cioè io Foden lo devo vedere qui Nei titolari Con 99 di overall Ragazzi Foden non va venduto Avete sentito cosa ha detto Guardiola Su Foden Che è l'unico Incedibile del Manchester City Io non lo vedo raga Perché più giù di così non si può neanche andare Hai venduto Foden Vediamo qua Oh santa Cleopatra Non c'è Foden ragazzi Ufficiale Niente Foden No Non l'accetto Non l'accetto Skyler Non puoi inviarmi l'accadenatore Senza Foden Io non posso stare senza Foden Allora ragazzi Sicuramente mi sono ripreso E' stato un attimo di debolezza Sapete L'amore che provo per Phil Foden Il mio figlio prodigo Io sono suo padre Suo fratello Chiamate quello che volete Allora Facciamo i seri Ragazzi Foden non va venduto Non va venduto A qualunque cifra E' un fenomeno Un vero fenomeno A parte questo Col Manchester City Secondo me può essere divertente Creare una carriera Nel natore Con tantissimi giovani talenti Perché già Nella squadra Ce ne sono tanti E qui abbiamo una schermata Un pochettino più Particolare Garre e Gonzales Sono giocatori che crescono molto Potrebbe essere interessante Riportare anche Matondo Perché faceva parte Delle giovanili Del Manchester City Sarebbe interessante Riportare magari anche Brahim Diaz Comunque si possono creare Con queste squadre Che hanno tanti giovani In giro Carriera allenatore Veramente Veramente Molto Importanti E ho notato E ho notato anche qui Nelle cessioni Che ci sono state Un paio Come detto Di cessioni Che non condivido Allora fortunatamente Pedro Porro L'hai dato in prestito Attenzione a Pedro Porro Ragazzi Perché ha un terzino destro Esterno destro Realmente interessante Ha un potenziale Sopra L'85 Non è male anche Questo Moreno Però a 24 anni Sapete Ci può stare L'hai venduto anche a poco Quindi vuol dire Che non è Cresciuto molto Per quanto riguarda Questi due Ragazzi Io ti dico la verità Forse Roberts Fa la stessa figura Di Moreno Però anche Roberts Ha una buona Ha un buon potenziale Anche lui potrebbe arrivare All'85 Se è allenato molto La cosa che mi stupisce È la cessione Di Palaversa Ragazzi Perché Palaversa È un centrocampista Centrale Realmente Realmente promettente Realmente interessante Con un potenziale Veramente molto alto E una buona crescita Quindi io Per quella cifra lì Dico la verità Non l'avrei venduto L'avrei allenato E nel giro di un anno Ci avresti fatto Tranquillamente Il doppio Se non quasi Il triplo Con Palaversa Quindi attenzione A questo Calciatore Per il resto C'è Angelino Che anche lui È un buon terzino sinistro Io l'avrei proprio tenuto Per far rifiatare Chi hai qua sulla sinistra? Marcello Eh L'avrei tenuto Sinceramente Non è una scelta sbagliata Quella di iniziare Una carriera allenatore Con una big Ci può stare Ognuno fa la carriera allenatore Che gli pare Però Occhio a questi giovani Perché potreste Realmente divertirvi tanto A farli crescere A vedere fin dove possono arrivare E a scoprire qualcosa di nuovo Ragazzi Attenzione a questi giovani Passiamo alla prossima carriera A natura e signori Del nostro amico Massimo Per Esposito Ci tratta di un prestito Punitivo Se ti chiedi perché Non si trova In squadra Allora Vediamo un secondo Siamo con il Pordenone Ok Esposito è andato in prestito Al Verona Quindi evidentemente Gli ha fatto un po' di storie Bisogna vedere A quel punto Che ruolo avevi dato Nell'acquisto Però Io dico la verità Sono sincero Gliela avrei suonata Negli allenamenti Perché Realmente È un giocatore Che cresce Tantissimo Comunque Ho visto che ha già Un overall Interessante 19 anni Lui parte con 17 Quindi Forse potevi allenarlo Un po' di più Ma comunque Ognuno fa Le proprie scelte Siamo come detto Con il Pordenone Qua vedo anche La Champions League Ok Bel girone Bene Quindi ci stai giocando Da un bel po' E questo è l'undici Titolare Ci sono già Dei giocatori Interessanti Qualcuno Di mai visto Anche mi verrebbe da dire Sicuramente non l'abbiamo visto Gli anni scorsi Abbiamo Gori in porta Pellegrini Montero Barison E Birindelli In difesa Menezes Che potrebbe tranquillamente Essere un mio parente Vidal As Lappalainen Strand Larsen E Candellone Allora signori È molto interessante Perché Candellone È un attaccante Del Pordenone Che cresce Può arrivare anche quasi All'80 Vedo anche Jovelic In attacco Ne avevamo parlato Ragazzi Nei possibili Giovani talenti Da inserire Nella carriera Allenatore E Jovelic Lo trovate Nell'Haitrack Francoforte Anche lui Ha un ottimo Potenziale Davvero molto interessante È anche questo Strand Larsen Norvegese 21 anni Che Hai fatto crescere Fino al 76 Questo mi fa Pensare Che essendo comunque Così giovane Può tranquillamente Superare l'80 Se ben allenato Ha un ottimo controllo Palla Una buona potenza Tiro Quindi questo è veramente Ma veramente Una bella scoperta Complimenti Vedo che hai anche Altri giocatori Davvero davvero Ottimi Come Martinelli E Lappalainen Vedo che Lappalainen È il titolare Anche Lappalainen Comunque Ha una giovanissima età Perché ha 23 anni Ed è un 72 Quindi lui Secondo me Fino al 74 75 Ancora Puoi farlo arrivare Ma credo Che No Credo che Martinelli Comunque diventerà Il titolare Senza nessun dubbio 20 anni 75 Martinelli gioca Nell'Arsenal Ragazzi lo conosciamo tutti Quindi da quel punto di vista Sei coperto Sei coperto Sia in attacco Sugli esterni Direi che sei Assolutamente Coperto Ok Secondo me L'acquisto di Vidal È ottimo Perché può dare In questo Pordenone Un po' di esperienza Che servirà Per la Champions In più ragazzi Oltre alla fase offensiva Vedo che ti sei mosso Bene anche Per quanto riguarda Il centrocampo E la fase difensiva Perché hai Ass a centrocampo Può crescere ancora Hai Barison Che gioca nel Pordenone Hai Birindelli Che è uno dei terzini Destri italiani Secondo me migliori Per questa carriera natura E cresce veramente tanto Pellegrini Lo conosciamo Ti sei rinforzato In porta Con Carne Secchi Che dovrebbe essere Addirittura il secondo Portiera della Nazionale E vedo che comunque Ti sei coperto Bene Perché in difesa Hai anche Diallo Matarrita Mastalli È il Pordenone Ragazzi Io penso che un lavoro Così sia Ottimo Ai Armini Vandenbergh Ottimi Quindi direi che loro Possono tranquillamente A breve diventare titolari Io sono pro Far giocare Candellone E Barison Essendo proprio Del Pordenone Quindi Se vuoi sostituire qualcuno Sostituisci Strand Larsen E sostituisci Montero Perché poi alla fine Armini E Vandenbergh Iniziano a diventare Giocatori importanti Se allenati Bene Non ho consigli da darti Perché ti sei mosso Veramente bene Penso che tu possa andare Per la tua strada Veramente Complimenti Passiamo alla carriera D'allenatore Del nostro Joker Questa è la mia Prima carriera D'allenatore Di FIFA 20 Carriera d'allenatore Me lo sono inventato D'allenatore Non c'era scritto Con il West Ham Spero che mi inserirai In un tuo video Sulle nostre carriere Ciao Menzo Forza Inter Ciao Joker Grazie per avermi inviato I tuoi screenshot Qui siamo nel vecchio FIFA E qui siamo nel nuovo Andiamo a vedere La formazione titolare Del West Ham Allora Ragazzi Abbiamo Donnarumma In porta Abbiamo Digni Sulla sinistra Digni Quest'anno è stato Un pochettino Diciamo così Riabilitato Prima non era molto Considerato secondo me Come terzino sinistro Quest'anno Gli hanno dato Veramente Delle buone caratteristiche Lindelof Edi Hop In difesa Klosterman Sulla destra Keita Eowar In centrocampo Pepe Felipe Anderson Fornas Il fornaio E Haller Veramente Veramente un ottimo Undeci titolare Non ho nulla da dirti Se non chiaramente Che è l'unico lì Che cozza un pochettino È Klosterman Ma io sinceramente Lo apprezzo Come terzino Quindi Per me puoi Tranquillamente Restare con lui Per adesso Quindi Ciò che ti consiglio Di fare È Allenalo tanto Perché Klosterman Comunque Può salire Se no Maele Potrebbe fare Al caso tuo Però Comunque Come detto A Klosterman Dagliele Le chance Perché Secondo me Se le merita Ottimo terzino destro Lanzini Come trequartista Di riserva Secondo me Ci sta Ottimo Acquisto Torres Per il centrocampo E lì sei coperto Vediamo se c'è ancora Qualcos'altro In centrocampo Da poter utilizzare Fred È infortunato Però ci può stare Come c'è esposito Anche qui Grande esposito Penso Possa diventare Tranquillamente Uno dei più acquistati Sulla destra Soler E mi piace Sulla sinistra Rodrigo ragazzi Questa è la prima carriera Dove vediamo Rodrigo del Real Madrid Quindi Lui non c'è neanche bisogno Che vi faccia La presentazione Veramente Ma veramente Un ottimo Talento Da poter acquistare subito Brasau Come secondo portiere In difesa Abbiamo Cardoso 76 E Tanganga Nient'altro Quindi direi che un altro Difensore centrale Ti serve Anche intorno all'80 Io te lo andrei a Consigliare Perché non puoi stare Solamente con Cardoso È veramente un peccato Sono sincero Non vedere Declan Rice Perché Declan Rice Che dire Sta diventando una bandiera Di questa squadra Sta diventando Importante anche per la Nazionale maggiore Sta diventando importante Anche in ottica Calcio mercato Perché sembra Che il Manchester United Sia pronto a sborsare Quasi 70 milioni Per Declan Rice Quindi Declan Rice Era un ottimo Centrocampista Da poter utilizzare Anche al posto Di Fred E comunque Essere un pochettino Coperto A centrocampo Perché forse Anche lì Ti manca qualcosa E addirittura Declan Rice Può fare anche Il difensore centrale Quindi Veramente un peccato Aver ceduto Un giocatore del genere Quindi Per la difesa E per il centrocampo Ti vado a consigliare Un giocatore Più o meno Con le stesse caratteristiche Di Declan Rice Possono fare gli stessi ruoli Martinez Dell'Ajax Infatti Martinez Che trovi all'Ajax Come detto Può fare Il difensore centrale Il mediano E anche il terzino sinistro Quindi che fai Te ne privi Un giocatore del genere No che non te ne privi Vai ad acquistare Assolutamente lui E non te ne pentirai Potenziali Sopra l'85 Per il resto Allena tantissimo Esposito E A Folaian Non credo Possa essere troppo interessante Perché ha già 22 anni 61 di overall Rivedibile Occhio a Tanganga Perché anche lui Può crescere Quindi Gestisci bene Gli allenamenti Tanganga Esposito Per il resto Non sprecherai Allenamenti Per questi altri giocatori Forse un po' Soler Rodrigo senza dubbio E Ti dico la verità Martínez Dell'Ajax Mi raccomando Valla ad acquistare Non te ne pentirai Ultima carriera L'anatore Ce la manda il nostro Giallo Per questo episodio Concludiamo con Il Bayern Monaco 2 Mi segue su Twitch Il ragazzo E vediamo un attimo Come si è Mosso Partiamo subito Col dire ragazzi Che il Bayern Monaco 2 Secondo me Quest'anno È uno dei migliori Progetti Che si possa fare In quanto Parti dalla terza Divisione tedesca E hai la possibilità Di arrivare In Bundesliga 1 E battere Il Bayern Monaco Quindi La squadra Maggiore Si parte già Con dei giocatori Molto interessanti Come Zilkzde Che vedo lì In attacco 76 Ma ce ne sono Anche degli altri Come Lars Lucas Mai Il difensore centrale Vediamo se ne è tenuti Altri Si qualcun altro c'è Ci sono molti Effettivamente Acquisti Che ho fatto anche io Però raga Ci sono dei talenti Che hanno aggiunto Dopo Con l'aggiornamento Come Ucice Comunque Andiamo un attimo A vedere l'11 titolare Gasparini Che non conosco Vedo da qua Portiere 17enne Dell'Udinese 57 di overall 79 80 Di potenziale Veramente Ragazzi Una bella scoperta Questo Gasparini Grazie per avermelo Fatto conoscere Da tenere assolutamente In considerazione E poi Hai anche Bazunu Dovrebbe essere un portiere Del Manchester City Non vorrei dire una cavolata Ragazzi Sono due portieri Comunque Giovanissimi Per quanto riguarda Il terzino sinistro Hai Bello Lo conosco Ottimo potenziale Anche per lui Potrebbe arrivare anche All'80 Lars Lucas Mai Armini Guardiol Badia Schill Quassi Per quanto riguarda La difesa Quindi lì siamo Coperti Senza nessun dubbio Hai già dei giocatori Che crescono Una valanga Come Armini Badia Schill E Mai Per quanto riguarda Invece la destra Hai Acquistato anche tu Hoever E Dest Questo vuol dire che Hoever Molto probabilmente Lo farai giocare Titolare sulla destra E Dest Sulla sinistra Eccolo qui Il nostro Serginio Dest È una bomba Ragazzi Compratelo Allenatelo Insieme ad Hoever Sono secondo me Alcuni dei terzini Migliori Senza dubbio Del gioco Per quanto riguarda Il centrocampo Vedo che anche tu Hai acquistato Gravenberg E mi fa piacere Riccardi Resta anche quest'anno Un giocatore Veramente Veramente Molto interessante Della Roma Ma 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 Ti sei coperto A centrocampo Molto bene Perché hai acquistato Scusate se faccio spesso Avanti e dietro Migliori Centrocampista centrale Del Monaco Dovrebbe essere Ocice Centrocampista centrale Del Paris Saint Germain C'è Alvarez Come trequartista Ma è Almada Come titolare Quindi ti sei coperto Molto bene Con De La Vega E Marine Ti sei coperto Anche sugli esterni E Martinelli Da esterno Fatemi sapere com'è Perché io forse Lo preferirei Come o seconda punta O attaccante Però Nel dubbio Tu L'hai messo da esterno Hai Zierkze Come sostituto di Boju Che è una bomba E sulla destra Hai Lozek Esterno destro Veramente molto interessante Dello Spartapraga Ti sei mosso bene Nel dubbio Un Greenwood Io lo butti Nella mischia Come sostituto Io guardo Dico la verità Greenwood Lo potrei vedere Molto come trequartista Ma Hai la fortuna Che sia Greenwood Che Zierkze Sono Sono simili Da questo punto di vista Perché Zierkze Può fare Anche lui La T Il trequartista E L'attaccante Prima punta Ed è molto fisico Un po' come Greenwood Greenwood forse È un pochettino più veloce Mi viene da dire Perché Zierkze È molto È molto Macchinoso E quindi Potrebbe far fatica A giocare da esterno Ovviamente Greenwood è molto meglio Signori Il primo episodio Si conclude qua Abbiamo visto Dei giovani Interessantissimi Delle carriere Molto interessanti Perché lo spunto Del Manchester City Ci può stare Il Bayern Monaco 2 È ottimo Il Pordenone È tanta roba E anche quest'anno Il West Ham È una squadra Molto interessante Quindi Primo episodio Bomba Fatemi sapere Cosa ne pensate Delle sessioni Di Phil Foden E Declan Rice Questi giocatori È meglio tenerli Ragazzi O è meglio farci cassa Io sono Sinceramente Per tenerli Sono dei Sono dei gioielli Che vanno costuditi E vanno allenati Perché Svoltano le squadre Secondo me A parte questo Ragazzi Ognuno è libero Di fare ciò Che ovviamente Vuole Per carità Fatemi sapere Ovviamente la vostra idea Inviatemi le vostre Carriere allenatore Ragazzi Link in descrizione Per capire come fare E link in descrizione Per il mio profilo Instagram Noi ci vediamo Nel prossimo video Lasciate un mi piace Un commento Un consiglio E ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi